che stai ascoltando con la ventana e che non ti aprevese la mano accercate 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 che lindo, adios grazie per la mano è prima stanza tu dove stai ascoltando tu dove stai ascoltando in questa attualità tu dove stai ascoltando 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 lo che dios stai ascoltando lo può fare conti se vuoi passare la orazione ven ven con me gloria a Dio mi alma te alaba mi alma te alaba il pueblo adorando gloria a Dio il pueblo adorando per que queste almas che stanno ancora indecisa vengano 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 a buscare orazione aleluia mi alma te alaba Gesù aleluia mi alma mi alma te alaba Gesù Dios es bueno gloria Dios es bueno aleluia 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 Dios es bueno aleluia Dios es bueno Dios es bueno que pases aquí al frente no ore por nadie todavía vamos a pasar las vidas aquí vamos los líderes ahora activados gloria a Dios aleluia vamos a hacer un círculo para que las vidas lleguen aquí mira siguen pasando vidas vamos no mandes a nadie a orar vamos a poner las vidas aquí para que la predicadora hoy ore por todo ella que hoy no vuelve a llamarse la almana después aleluia que belleza arriba gracias gente que vive de Vitor hasta saludo esto se acaba ahorita y mañana vas a tener que pelear otra vez y el marco vas a tener que pelear otra vez y el tiempo vas a tener que pelear otra vez vamos 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 hay vidas hay vidas que quieren pasar aleluia Dios es bueno 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 acá hay que ir a aceptar a ese que como único y exclusivo se alabora Dios es bueno que levanten las manos ay que lindo Dios es bueno y hoy Dios te trago aquí lo que decían que de este lugar nada sabía bueno hoy Dios transformó a la almana de Pepe y hay gente mira hay gente yo estoy viendo aquí en el tercer piso aquel frente mirando por las ventanas como Dios y te voy a decir más esta campaña sigue el martes que viene vamos a coger otro lugar aquí y tú vas a volver a acreditar porque lo que tú has tapado aquí lo que tú no acabas con la broma Dios lo va a levantar al saber mira tu papá mira el que no iba a lanzar las noroyas pensando se acabó se acabó la caneca cambiaron la caneca por una biblia cambiaron llevaste esa mano todo lo que pasara mira you se acabó y no se indique ese testimonio de Pepe que le dieran almentencia también era para ti Dios te está llamando su tiempo y puedes dormir hay una voz más fuerte que la que te está hablando secretaria no te quites sin el comienzo solamente estoy hablando algo así de hecho pero más tranquilo tranquila manos arriba manos arriba manos arriba a la profesión de la fuente del pueblo repita nosotros los chidos altura de tu fe guau la guau la roja de 520 Náñez si hay un milagro de la sanación de Algar tu papá ayúd mira la gente Vanno a dire conmigo, Paolo, venga conmigo, Paolo, vengo a impetir, humillado, estive mi nome, santo dios, en el libro, en el libro, de la viva, de la vida, gloria a dios santo, ay dios mio, yo no se cuanto esta en a mi, cuando un dia se siente salvo a la cama, aplaudiendo a los amigos, algo esta pasando en altura de tu mente, el mal de este dios, mira que es la bíblica del autismo, la vida se esta perdiendo, necesitamos seguir batallos, necesitamos seguir batallos, necesitamos seguir batallos, viva la vida, gloria a dios santo, ay dios santo, no falta en vivo, no falta en vivo, ay dios santo, ay dios santo, ay dios santo, ay dios santo, dios santo, oh no santo, ay dios santo, ay dios santo, ay dios, como le llamo o dumbo o bumbo, indiqué, 27 hubieran exphot aïngua, giajo, gloria a dios santo, 1976, av Restai, elo John Grunzo, sundial,ica, Maria, Lisa,ioni, dieos santo, ay dios santo, ay dios santo, ... ... ... ... ... ... ... Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare, non è venuto a votare. Sì, che non è venuto a votare, non è venuto a votare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.